Fare programmazione nei piccoli comuni è un miraggio a causa di complicazioni burocratiche interminabili causate dalle stesse leggi. La burocrazia si morde la coda e si blocca da sola anche nel tentativo di migliorarsi. Lo denuncia in una nota a Lanci il sindaco di Vescovato, Maria Grazia Bonfante, che nel rendiconto 2016 è comunque riuscita a ridurre l'avanzo a soli 46 euro, avendo speso tutto in servizio ai cittadini. Spesso mancano competenze adeguate nei piccoli comuni, in particolare negli uffici economici e finanziari, dove il ragioniere è disponibile solo poche ore alla settimana per l'esigenza di ridurre il personale e deve soddisfare richieste continue da parte dello Stato degli enti sovraordinati al Comune, di dati e statistiche con elaborazioni su programmi informatici lenti, senza banda larga e con sistemi operativi poco digitalizzati per rendicontare la carenza di risorse. Circolano infatti ancora molti fax, anche se le leggi parlano di dematerializzazione degli atti amministrativi. L'obiettivo di fornire una pluralità di dati una sola volta da parte del Comune è irrealizzabile e così i piccoli comuni stentano anche solo a partecipare ai bandi, che sono diventati la principale fonte di risorse per la pubblica amministrazione. Per vincere i bandi regionali o cariplo occorrono però progetti e quindi professionalità elevate. Le vittime delle impre opportunità tra comuni più grandi e più piccoli sono i cittadini che pur avendo gli stessi diritti spesso devono accontentarsi di servizi di qualità ben diversa. Così se Cremona riesce a ottenere finanziamenti vincendo bandi a ripetizione per i piccoli comuni la lotta per la sopravvivenza è ben diversa. È un successo essere riusciti nei municipi ad approvare il rendiconto 2016 la fine di aprile 2017 evitando la sovrapposizione tra bilancio previsionale e consuntivo con la conseguente impossibilità di programmare e quindi di migliorare i servizi in tutti i settori.